sai quanti buoni propositi ho fatto a settembre non lo so 13 non sono mica Anna Baker ne ho fatto uno solo e da quel momento la mia vita è diventata un grosso due enormi avvistato un maturando facciamogli il culo e scriveranno approvato a provarci lo vedo chiedetegli della tesina siamo a giugno tu lo sapevi sì la settimana prossima ho la maturità medici hanno detto che sono fottuto non c'è più nulla da fare già la sento mia madre è ora di trovarsi un lavoro fallito figlio di p***a sono sei mesi che dico ad ogni persona che conosco che la tesina è pronta ci stavo credendo anch'io ma tanto il diploma non serve a un c***o sono un influencer io ho tanto così da studiare va a p***a la vita